Lasciamo adesso la parola alla dottoressa Marina Micheli, Angel Investor di Accelerab, per il tema l'equity crowdfunding in Europa come strumento di affermazione per le economie collettive e territoriali. Prego dottoressa. Allora, riprendiamo dall'equity crowdfunding. In molti pensano che il fenomeno sia quasi un fenomeno di tendenza piuttosto che una tendenza dei giorni d'oggi, quasi un trend. Invece il concetto di finanziamento da parte della collettività è molto antico e fonda le sue radici già nel XVI secolo. Tale forma di finanziamento ricorda in modo particolare le origini delle prime borse valori europee che è in modo particolare quella olandese che sostenne i primi viaggi delle compagnie delle Indie orientali, la celebre Vokka. La borsa valori olandese raccoglieva denaro da tutte le classi sociali per poter permettere alla compagnia delle Indie di fare i primi viaggi. Un altro esempio importante che voglio portare è nel 1700 in Irlanda lo scrittore John Swift creò il vero primo fondo di prestiti. Raccoglieva denaro per poter concedere poi delle somme a coloro che erano poveri, privi di garanzie, ma che avevano dei progetti promettenti. I fondi si svilupparono in tutta Europa velocemente, a metà dell'Ottocento ce ne avevamo soltanto che in Irlanda più di 300. Faccio questi esempi del passato perché vorrei far comprendere quanto è importante la raccolta fondi. Talune sono anche molto curiose, come ad esempio Pulitzer fece una raccolta fondi per poter costruire la piattaforma che accoglieva la Statua della Libertà a New York. Non c'erano fondi a sufficienza e quindi si inventò una raccolta fondi per poter erigere la piattaforma. Questi esempi del passato mi servono non per mettermi in cattedra e fare da maestra, come dire, ma semplicemente per far comprendere quanto successo c'è stato nel passato nella raccolta fondi e quanto ce ne potrebbe essere ancora oggi con l'equity crowdfunding grazie anche alle piattaforme digitali. Ormai siamo tutti digitalizzati e sempre connessi e soprattutto in un momento in cui l'economia reale sta vivendo veramente una grande difficoltà. Non ci sono mai risorse sufficienti e liquidità per le aziende. Di conseguenza siamo passati da una crisi all'altra, dalla pandemia Covid, l'escalation della guerra tra Russia e Ucraina, poi la crisi del Mar Rosso e ora purtroppo anche la guerra tra masse Israele. Tutto sta influenzando negativamente il contesto economico globale. Le imprese in particolare, le microimprese e le PMI hanno un'elevata necessità di trovare fondi. Il momento è assolutamente di incertezza per tutti, credo che lo viviamo ogni giorno. Soprattutto le previsioni macroeconomiche sono negative per le imprese perché il prezzo dei beni energetici continua ad aumentare. Dal lato della domanda poi dei beni e dei servizi la situazione è altrettanto negativa perché i consumatori tendono a risparmiare piuttosto che ad investire. Per quanto riguarda le imprese hanno grosse difficoltà di ottenere liquidità sia sotto forma di capitale di rischio che di credito. Gli investitori sono scarsi e le banche danno sempre più volentieri solo denari a coloro che hanno grande garanzie e possibilità di rimborso. Ho messo questa slide per far comprendere che negli ultimi dieci anni sono stati chiusi sul territorio italiano oltre 12 mila sportelli bancari. Vale a dire il 30% degli sportelli che esistevano intorno al 2013. Questo ci fa comprendere questa percentuale così alta. Quanto è difficile per gli imprenditori poter interloquire con quelli che vengono definiti i canali standard del finanziamento. L'imprenditore non ha il soggetto a volte sufficiente per poter far crescere la propria azienda o risanare la propria azienda. In questo scenario di forte incertezza macroeconomica il crowdfunding può contribuire in modo sostanziale oltre al supporto di start-up e PMI anche al rilancio di aziende in crisi e può divenire di conseguenza una soluzione alternativa di finanziamento oltre che un potente strumento per il rilancio delle aziende che in questo modo possono attingere direttamente dalle economie territoriali i beni necessari per poter continuare a sviluppare le proprie aziende. Intendo per economie collettive tutto il territorio che potrebbe decidere di sposare il progetto imprenditoriale per interesse economico, per passione, per unità di intenti oppure territorialità. Il legame emotivo assolutamente non deve essere sottovalutato perché è un potente motivatore per i finanziatori per decidere di sposare una raccolta fondi e magari in un'epoca così digitalizzata anche diffonderla attraverso i propri contatti social. In questo modo chiaramente l'equity crowdfunding avrebbe ancora più piutenza, assumerebbe ancora più forza. È notizia proprio di qualche ora fa praticamente che la squadra dell'Aquila che è nel girone dei dilettanti sta lanciando una campagna di crowdfunding per potenziare la propria squadra per passare dal settore dilettantistico a quello del professionismo. Al di là della squadra di calcio, avere una squadra forte in un territorio che è stato così falcidiato dal sisma è chiaramente una cosa molto importante perché al di là del semplice squadra di calcio ci sarebbe appunto la promozione di un territorio così importante. Gigi Buffon l'ho messo qui proprio perché è stato i primi tra i contatti social praticamente che ha dato la sua adesione a questa campagna di raccolta. Perdonate, ho bisogno di tenermi un filo dei miei discorsi. Quindi l'equity crowdfunding può essere una grande opportunità per le economie collettive territoriali per sostenere le imprese locali contribuendo allo sviluppo economico della comunità in cui vivono o a cui si sentono legati e potranno lavorare direttamente per la salvaguardia dei posti di lavoro, la crescita economica e il mantenimento del tessuto imprenditoriale del territorio e allo stesso tempo anche beneficiare di un potenziale ritorno grazie alle quote delle azioni detenute. Quindi l'equity crowdfunding offre alle aziende in crisi una possibilità di connettersi direttamente con i potenziali sostenitori perché attraverso le piattaforme digitali possono colloquiare direttamente con grande impatto con i propri sostenitori e portarli a loro raccontando quello che potrà essere il progetto di rilancio dell'azienda e chiaramente anche qui è importante per ciascuno che il proprio territorio sia ricco, sia sano e possa progredire. La tecnologia poi abbatte qui ho messo il famosissimo serial Diavoli 2 non so se molti di voi l'hanno visto la tecnologia abbatte le barriere d'ingresso rompe gli equilibri preesistenti e soprattutto democratizza anche l'accesso alla finanza così anche coloro che finora non avevano possibilità di accedere a investimenti anche coloro che posseggono modeste somme di capitale possono partecipare a innumerevoli opportunità di investimenti questo trend favorisce non soltanto le imprese ma anche una cultura finanziaria che soprattutto in Italia manca perché chiaramente attraverso la digitalizzazione è tutto più inclusivo e dinamico le piattaforme però da sole non bastano c'è necessità che continuino a fare investimenti ma soprattutto hanno bisogno delle collaborazioni di quelli che sono appunto i grandi intermediari storici vale a dire banche business angel venture capitaliste e anche fondi di equity in modo tale che tutti coloro che appunto hanno la grande esperienza alle proprie spalle possano portare un contributo in termini di network e di conoscenze così da garantire un processo di acquisizione fiducia e certezza soprattutto in Italia fiducia e certezza perché il dato di fatto è che la cultura finanziaria in Italia è veramente molto molto bassa normalmente gli investitori si limitano ad andare alla banca a depositare il proprio denaro in banca piuttosto che a quelle che erano le vecchie poste il rapporto quindi tra i canali tradizionali del finanziamento e quelli cosiddetti innovativi non va valutato come antitetico ma deve essere assolutamente collaborativo per quanto riguarda le imprese chiaramente che hanno necessità di risorse e di liquidità devono rivolgersi chiaramente ad aziende specializzate e professionisti qualificati come diceva appunto precedentemente il dottor Vegas l'importanza appunto di aziende qualificate che possono guidarli in quelle che sono effettivamente le necessità di potersi rilanciare e ottenere fondi e liquidità magari attraverso l'equity grafonding piuttosto in altri modi per quanto riguarda Accelera appunto col team di esperti noi valutiamo attentamente quelle che sono le candidature delle aziende che vogliono accedere al crowdfunding chiaramente noi decidiamo di non far accedere tutte le aziende al crowdfunding perché taluna non sono pronte perché non hanno gli obiettivi adeguati per poter farli quindi noi studiamo un percorso personalizzato fatto di fasi per ciascuna delle aziende ad esempio e valutiamo effettivamente gli obiettivi che l'azienda vuole raggiungere ne valutiamo i criteri in varie modalità facendo analisi di mercato studiando le validazioni dei loro progetti ma soprattutto cercando di comprendere quali possono essere le economie collettive territoriali che possono sposare il progetto e che quindi far sì che la raccolta possa avere effettivamente un ottimo risultato perché altrimenti appunto con Accelera noi non decidiamo di portare tutte le aziende non sono pronte tutte le aziende per poter fare del crowdfunding chiaramente li aiutiamo anche a scegliere la piattaforma più idonea di questo percorso e creiamo per le aziende una sorta di vetrina quindi quello che voglio dire è che le risorse per tentare di far ripartire aziende ce ne possono essere l'importante appunto è selezionare attentamente i progetti da dover sia sostenere ma quelli da portare avanti grazie 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 a tutti